Sorpreso ed arrestato mentre spacciava Ashish, chiamato Messi, probabilmente in riferimento al campione argentino in pieno centro storico. Nei guai ha così finito una 25enne a retino sorpreso con alcuni ovuli di Ashish. Il tutto era partito a seguito di alcune segnalazioni da parte dei residenti che avevano notato il giovane mentre cedeva dosi di droga ai clienti nei pressi dell'anfiteatro romano. I militari del nucleo operativo radiomobile, quelli della stazione di Arezzo, avevano così organizzato nella zona dei servizi mirati e proprio in via Margaritone il giovane è stato notato dai militari con fare sospetto. È stato così immediatamente sottoposto a perquisizione personale. Negli slip aveva nascosto 70 grammi di Ashish, suddiviso in ovuli con la dicitura Messi. La perquisizione è poi proseguita anche nella sua abitazione in via della Chimera. Qui sono stati trovati altri ovuli, sempre con lo stesso stupefacente e con lo stesso marchio, per un totale di altri 70 grammi, nonché 700 euro in contanti ritenuti provento dell'attività di spaccio. Per l'uomo sono così scattate le manette. L'arresto questa mattina è stato convalidato, per lui è stato disposto l'obbligo di firma.